Durante la campagna elettorale, l'ho detto un sacco di volte, il primo obiettivo da perseguire in Calabria è la buona salute dei cittadini. Massimo Misiti, deputato eletto con il Movimento 5 Stelle, commenta così i tagli delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali messe in atto dal decreto delle assegnazioni della risorsa DCA 128 del 2017. Il taglio delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali ricade sugli esami di laboratorio, le ecografie, le TAC, le risonanze magnetiche, le visite specialistiche di tutte le branche e le prestazioni di fisio-chinesi-terapia. Prestazioni che subiscono il taglio e che ricadono in un ambito che mediamente ne richiede 18-20 per ogni abitante. Con questo provvedimento il numero si abbasserebbe drasticamente in provincia di Cosenza a sette prestazioni di media pro capite. Sono moltissimi i nostri corregionali che rinunciano a curarsi o a condurre indagini cliniche proprio a causa dei tempi troppo lunghi della sanità pubblica, spiega Misiti. Da questa ulteriore riduzione discenderà la necessità di ricorrere a prestazioni a pagamento, lasciando ai margini chi non ha sufficienti risorse economiche. Dovremmo lavorare, prosegue Misiti, per assicurare ai calabresi una sanità pubblica che abbia, dove manca, gli standard di qualità, professionalità e assistenza, quanto meno pari ai presidi del Nord Italia, quel Nord Italia che in alcune regioni mette addirittura preventivamente e annualmente in conto, i rimborsi sanitari provenienti dalla Calabria e dal Sud in genere. Frenare la migrazione sanitaria significherebbe poter investire quei fondi sul nostro territorio per strumentazioni e risorse umane. Il mio non è un appello a favore dei privati, precisa poi Misiti, ma un invito a garantire l'accesso agli accertamenti clinici strumentali, dei quali, dati alla mano, i cittadini calabresi hanno sempre più bisogno. È necessario rafforzare il sistema pubblico, sì, ma in presenza di gestioni deficitari si deve porre la sanità privata in condizione di poter assolvere ad un compito di complementarietà perché il bisogno della persona viene prima di ogni altra cosa.